L'ex provincia regionale di Trapani viaggia sull'orlo del dissesto, forse tra quelle che sta peggio tra le ex province, perché mostra segni di cedimento ancora più evidenti dopo la riforma approvata dalla regione che ne stabilisce la liquidazione e quindi la chiusura, ad intracciarsi poi una serie di problemi finanziari che ne minano la fondamenta. Per questo sarebbe da qualche giorno in circolazione la notizia che il commissario straordinario attualmente in carica, Giuseppe Amato, sia pronto a dimettersi dall'incarico perché non in grado di operare. Nel frattempo si naspriscono anche i rapporti istituzionali con i comuni, non ultimo con quello di Trapani che ha citato in giudizio proprio gli uffici di Palazzo Dalì per omesso pagamento di parte del lici del 2010 per un ammontare di poco superiore alle 100.000 euro. Un contenzioso finito alla Commissione Provinciale Tributaria che, al di là di chi avrà ragione, mette in evidenza come è la base ci siano essenzialmente problemi finanziari. Si sta tentando da tempo di mettere all'asta degli immobili di proprietà l'ultima manovra alla fine dello scorso anno con sei strutture messe in vendita del valore di 7 milioni di euro. Di questi tempi, con la crisi in atto, difficilmente si trova tale liquidità. A complicare tutto anche le società partecipate che sono sul groppone dell'ex provincia. Belice Ambiente S.P.A., Agritour Pesca, SRS, Megaservice e altre ancora. In alcuni casi si pagano ancora fior di stipendi a liquidatori e a volte anche compensi a consulenti e collaboratori per questioni a esse legate. Qualche cura dimagrante in questi anni di commissariamento, per esattezza dal 2012, da quando l'allora presidente Mimmo Turano si dimise per candidarsi all'ARS, non è riuscita a cambiare granché la situazione dall'Arme Rosso. In questo quadro si tagliano anche servizi essenziali, come ha già avuto modo di denunciare in questi giorni alcuni sindacati, come nel campo dei servizi sociali e della pubblica istruzione. Non è bastata la spending review degli ultimi anni, sostiene il segretario generale della UIL FPL Trapani, Giorgio Macadino. L'ente non potrà fronteggiare necessità basilari, tagliando servizi di natura sociale nel campo della pubblica istruzione. Pare che l'ex provincia non sia in grado, tra le altre cose, di assicurare l'assistenza, la comunicazione e l'assistenza genico-personale agli studenti disabili, il pagamento delle rette agli alunni disabili che frequentano i convitti, il pagamento dei trasporti agli alunni con disabilità e il pagamento dei sussidi per garantire il sostentamento di famiglie con parenti e portatori di handicap.